Grazie Grazie Sotto Grazie Grazie Sotto 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 I'm taking a movie Sotto Sotto I'm not spot in a movie Sì, stai lavorando per l'HPB? Sì, per l'imprimazione. Sì, abbiamo già visto qui. Sì, siamo qui. E abbiamo detto che abbiamo conosciuto l'HPB. Sì, io sono qui. Sì, io sono qui. Non so, non so. Non so, non so. Non so, non so. Sì, mia staff molto piace l'appropo della collezione e vogliono sapere come si devono fare quella collezione. Sì, questa è quella che me ha portato. Perché è difficile per trattare l'è vita senza una professionalità. Sì, sì, sì. È un'autominali molto molto per l'expercizio. Questo è un po' per le persone. Quindi stai facendo un braccio? Sì, questo è un braccio. Questo è un po' più piccolo.